La Procura di Vibo Valencia ha notificato l'avviso di conclusione e indagini alle persone coinvolte nell'inchiesta sulla profanazione di tombe nel cimitero di Tropea, che nel febbraio scorso aveva portato all'arresto di tre persone, tra le quali il custode dell'area, in servizio al comune della cittadina tirrenica. L'atto, firmato dal procuratore Camillo Falvo, è stato notificato a Francesco Trecate, di 62 anni, custode del cimitero di Tropea e dipendente comunale, al figlio Salvatore, 38enne, e Roberto Contartese, 53 anni, accusati di associazione a delinquere e soppressione dei cadaveri. L'inchiesta era nata sulla scorta di un'altra indagine già avviata ed aveva portato a scoprire un sistema illecito di estumulazione dei cadaveri, soprattutto di persone che non avevano parenti in zona, condotte che, secondo l'accusa, sarebbero iniziate nel luglio del 2019. Era stata l'installazione di una telecamera in un piazzale del cimitero, in cui i tre indagati svolgevano le estumulazioni, a dare impulso alle indagini dopo alcune segnalazioni che nell'estate precedente avevano attivato l'attenzione della Guardia di Finanza. Immagini in cui si vedono i cadaveri sezionati e collocati in sacchi. Uno degli indagati è stato ripreso mentre tiene in mano la testa di una donna. Una prassi che, secondo l'accusa, sarebbe stata consolidata. Non è stato chiarito, tuttavia, se i resti venissero portati in discarica. Gli indumenti e i resti delle bare venivano bruciati sul posto.